ciao a tutti allora questo non so che video sarà perché ho problemi con la connessione nel senso la qualità sicuramente sarà minore rispetto ai video precedenti quindi vi chiedo scusa già in anticipo purtroppo però io non ho possibilità di caricare video in hd né tantomeno in full hd quindi per il momento sono costretta a fare in questo modo devo praticamente caricarlo con una qualità inferiore mi dispiace perché comunque ci tenevo a questa cosa però purtroppo non posso fare altrimenti e quindi niente che vi volevo dire allora oggi è il 2 di novembre siamo tornati da una esperienza pessima per quanto riguarda il cinecittà world che siamo andati il 31 io vi avevo anche girato un video che però adesso non vi caricherò perché è altamente inutile però vi lascerò adesso qui in sovraimpressione mentre sto parlando voi vedrete delle immagini di quella giornata che abbiamo passato il 31 vi dico solo che è stata un'esperienza pessima perché a parte il fatto che tantissime persone avevano preso i biglietti online quindi c'era una fila chilometrica ma poi la fila chilometrica partiva già da quando praticamente dovevi entrare al parcheggio calcolate che noi abbiamo parcheggiato di fuori però vi assicuro che siamo stati praticamente in fila per un'ora solamente per arrivare a più o meno dove sta il parco poi una volta entrati purtroppo per mangiare c'erano troppe persone quindi file chilometriche non vi dico per metterci seduti proprio per anche per prendere magari un panino al volo o una bottiglia d'acqua al volo cioè proprio zero 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 proprio non si poteva c'era tantissima gente figuriamoci per fare i giochi noi abbiamo fatto in totale tre quattro giochi in totale perché c'erano file lunghissime c'erano laghi ti prego mi stai facendo traballare tutto c'erano file lunghissime laghi scendi giù forza c'erano file lunghissime quindi non cioè l'attesa era veramente una cosa snervante snervante poi ci abbiamo avuto un'esperienza pessima con il gioco di assassin creed perché praticamente non c'era scritto all'esterno che era uno per volta c'è un giocatore alla volta pensavamo che si poteva entrare che ne so a due a due così e invece era proprio un giocatore alla volta e noi avevamo i bambini piccoli di sei anni che dove li mandi da soli quindi ci siamo dovuti siamo dovuti andare via dopo però esserci fatti una fila sana e la fila è durata più di mezz'ora in più volevamo fare altri giochi volevamo vedere anche dei giochi che stanno dentro i capannoni ma ragazzi delle file assurde delle file assurde al che io cioè allora alcuni nostri amici presi pure perché comunque i figli non non erano particolarmente come dire pazienti sono dovuti andare via sono dovuti andare via dopo manco un'ora che eravamo entrati noi siamo rimasti con altri con un'altra coppia di amici con i figli però vi assicuro cioè per fargli fare per fargli fare altri due giochi in croce poi ha cominciato a venire un po' d'acqua e dopo di che anche noi alla fine eravamo stanchissimi perché fare le file di snerva quindi io capisco che il 31 è una giornata impegnativa perché sicuramente abbiamo sbagliato in questo però diciamo che c'erano anche tantissime persone che erano venute dalla mattina per vedere un concerto la sera allora io mi domando se chi è avvenuto al concerto l'avessero fatto entrare direttamente la sera secondo me ci sarebbero state meno persone in più proprio il fatto di portare avanti fino a mezzanotte tutta questa festa ha creato un po' di casino perché logicamente i giovani soprattutto sono partiti dalla mattina e sono rimasti fino a mezzanotte cioè noi che avevamo le famiglie ci siamo trovati costretti a fare due tre giochi e poi ad andarcene perché non era proprio una situazione fattibile cioè noi calcolate che noi non avevamo fame perché comunque io porto sempre qualcosa tipo patatine snackini vari da poter mangiare in macchina perché io comunque soffro la macchina quindi mi porto sempre qualcosa da mangiare per meno male che l'ho fatto perché praticamente noi siamo arrivati a mangiare alle 5 e mezza del pomeriggio ma all'outlet a fianco cioè non lì lì c'era ancora una fila e mezza alle 5 e mezza perché c'era la gente che alle 5 e mezza ancora mangiava quindi ci siamo visti costretti ad andare a mangiare all'outlet però vi dico una situazione snervante poi diciamo che alcuni giochi cioè quei pochi giochi che abbiamo fatto non erano neanche un granché quindi non lo so la mia esperienza non è stata positivissima devo dire la verità non credo che ci ritornerò mi dispiace perché comunque so che tanti ne parlano bene di questo parco però e poi mi piaceva il fatto che comunque era sullo stile di cinecittà quindi mi piaceva tantissimo questa cosa purtroppo però secondo me c'è stata una pecca di organizzazione ma io lo vedevo anche nelle persone diciamo addette ai lavori che addette ai giochi che erano lì che facevano entrare non entrare secondo me non c'è stata una grande organizzazione in più c'erano la questione del saltafila io mi sono trovata una signora che praticamente aveva pagato il saltafila però non aveva preso il braccialetto all'entrata quindi praticamente il saltafila era inutile senza quello la signora non poteva far fare i giochi non poteva saltare la fila quindi c'è pure questo ma scrivetelo ditelo fate cartelli grossi così cioè io non lo so date un un indizio oppure che ne so anche nei giochi tipo assassin crete che devono essere fatti per una persona mettetelo proprio all'inizio del di dove di dove parte la fila in maniera tale che se uno c'ha un bambino piccolo di sei anni non lo manda è stata una cosa un po così siamo rimasti un po male poi in più il nervosismo le cose insomma non è che l'abbiamo vissuta benissimo però diciamo che però diciamo niente cioè stava veramente pessima bruttissima comunque siamo tornati siamo tornati abbiamo trovato la pioggia ovviamente e oggi invece sembra che mantenga io sono andata a fare la spesa stamattina e a farmi un tatuaggio allora sono andata a dalla mia io ho due tatuatori che lavorano nello stesso posto stavolta ho fatto lavorare lei che mi piace tantissimo vi lascio il suo il suo instagram qui sotto in sovraimpressione così se volete andare a dare un'occhiata ai suoi lavori almeno lo vedete almeno lo vedete scusate e ho fatto appunto un tatuaggino piccolo dietro dietro il polpaccio insomma e ho preso appuntamento per far non altro la settimana prossima sempre con lei che è un tatuaggio che volevo fare da un po da un bel po saranno almeno quattro anni che però non ho mai avuto il coraggio di fare perché è sulla capiglia e sul collo del piede so che fa malissimo quindi ho sempre temporeggiato però diciamo che sono una che con il dolore lo regge bene quindi ho deciso di buttarmi in questa cosa e e quindi settimana prossima ci sarà anche questo questo altro nuovo tatuaggino adesso non ve lo faccio vedere il tatuaggio perché praticamente fresco sta spurgando insomma chi fa chi fa fatto chi c'ha tatuaggio addosso sa benissimo di cosa sto parlando e e niente detto ciò io adesso mi sa che vado a cominciare a preparare qualcosa per pranzo e come al solito oggi è martedì samuel edilla che sta facendo il corso quindi mi vedete in camera per questo motivo quando mi vedete in camera sappiate che è perché non posso stare c'è vedete che c'è c'è ragazzi qui so cose proprio sovrumane e niente c'ha sti capelli che è peggio che hanno a di notte come al solito e va bene io vi mando sì vi mando un bacio che ci vediamo tra un po dai ci vediamo tra poco così vi faccio vedere il pranzo e vi ripeto perdonatemi per la qualità del video quando dice al marito portami il pellet non pensavo mai una cosa del genere portala un pochetto dei pellet che bastano non lo so è un po esagerato sono quasi alti quanto me toh ne mancheranno 20 centimetri ho capito ma allora ragazzi io sono appena tornata da pilates e mi sa che lo termino qua perché tanto non è che faccio chissà che cosa sono tornata da pilates proprio adesso sono ancora intenuta da palestra ho dato il cambio a samuel che è andato a fare che aveva allora dopo a me pugilato quindi io adesso preparo la cena per cena faccio le uova e spinaci e pisellini e sto perché cioè tutte cose molto veloci che non ci metto tanto a stare lì e niente niente dopo ci mettiamo a guardare un po di tv e la giornata è finita praticamente è stata un po un martedì da rientro traumatico un pochino stanchezza tantissima però insomma dai va bene così io vi saluto vi chiedo scusa se sto vlog è stato un po così ma capite da voi che la giornata di oggi a parte il rientro è stato traumatico ma poi comunque è sempre una giornata in mezzo alla settimana dove non si fa praticamente quasi nulla e ci vediamo nel prossimo video e spero che questo video come vi dicevo all'inizio sia almeno con una qualità decente purtroppo così e ok ora vi saluto vado a fare la cena buonanotte buongiorno se lo vedete di mattina se no buona giornata e ciao